Lo becco shiny, droppo 5 sub Re cattiva Capite perché la timer wall secondo me non serve Senti, più un forza antica te lo sparo, magari non ti shot Così tanto vabbè Ok E adesso spammi un po' di ultra ball Programmazione di domani la trovate online un po' in giro ragazzi, dateci un occhio Youtube, Instagram, Telegram seguite E lo saprete Finchè non mi fa forza antica è ok Ecco là Questo è il motivo per il quale non volevo arrivare a questo punto Joe non veloci dai lost Thomas è una questione di tempo, perdonami Lo faccio perché sono un filino di fretta E perché comunque la cattura non è la cosa che preferisco fare nei giochi Pokémon, lo sapete Quindi sì, velocizza Eh eh, regà Perché non vado a prenderla Life Orb? Salva adesso Perché non vado a prenderla Life Orb? Queste morti contano Giardo che contano ragazzi, ovvio Stiamo giocando la challenge alla fine Stiamo tirando le bambola Vabbè, io gli tiro una Ultra Ball per il meme Se solo Snorlax fosse in Ultra Ball, eh, non ci ho mica pensato Non ci ho mica pensato io Vai Try the Ultra Ball Try the Ultra Ball Capite perché non voglio prenderla Life Orb? Sbagliato, scusatemi Non ho usato la Velox Ball Posto che la Velox Ball sta deludendo Buona Velox Ball, regà Bella Poké Ball Mi piace Sono boostato le statistiche Ci sta, così lo ammazzo Buono Beh, provo con punizione uguale Tanto Eh Va bene Sono boostato le statistiche Ho qualche try in più Non si butta Niente Uno Due Rovina l'Alpha, dai Non si è Un bel